Benvenuti in questa nuova recensione. Come da titolo ho quasi bestemmiato. Voi direte perché? Perché mi sono imbattuto in questa merda di film. Film thriller del 2019. Penso che solo io ne parlerò anche fra 30 anni di YouTube e nessuno ne parlerà perché nessuno ha il coraggio di avvicinarsi a questi film e poi si vanno a vedere i film famosi che dicono trash qua, trash là, tipo non so. Se chiama vedere l'ultimo film di The Rock su Netflix io mi vado a vedere questo, no? Ho quasi sposato un serial killer. Che titolo di merda anche direi. Non solo il titolo in inglese ma penso di fare cacacare anche quello perché se il film è una merda, film è trascione assurdo. Abbiamo questa qua che gli piace il cazzo a questa nostra protagonista. Questa donna insieme a Sofia che gli piace Sofia anche lei il cazzo. E però si è accompagnato con dei pasticcini e una torta di 2 chili a gelato perché gli interessano solo queste le feste e il cazzo. E il gelato. Questo. Se gli date questo, lei è contenta. E anche la madre è contenta se è il cazzo. Quindi veniamo a scoprire che sono amanti del cazzo. Ora per chi diceva se è volgare, cambiate canale. Ecco, andate da un altro canale. E non rompete il cazzo. Ecco. Però niente, conosci questo uomo che sembra perfetto, gli piace fare tutto quello che lei vuole. È un uomo zerbino. Questo uomo zerbino alla fine, come tutti i serial killer, perché i uomini zerbino, questi serial killer fanno finta di essere uomini zerbino, poi diventano praticamente l'uomo che te rompe il culo. Perché questo qua è un cacciatore, lo chiamano il cacciatore. Dà la caccia alle donne, cioè gli piace che le fai innamorare di lui, no, le fa contente, che ne so, gli fa schifo Harry Potter, lui solo vede. Diventa fan di Harry Potter anche lui. Diventa fan anche del dito in culo. Gli piace qualsiasi cosa per far contente a quella lì. È normale che uno si innamora così. Cioè, se incontri tu una persona che gli piace tutto quello che piace a te, non male che ti innamori. Eh, vabbò. E lui gioca facile. Però quando poi gli dici, io ti amo, allora lì lui è contento ed è contento di ucciderti. Perché ti sei innamorato di lui. E niente, finché lei sta per scoprire questa cosa, e lui ci fa questo giochetto, gli lascia la giacca con l'anello, lei lo scopre. Oh, che bello, mi hai regalato un anello. Questo c'ha un fracca di soldi, finché lei, no, per fargli la sorpresa a lui, va a beccarlo nel momento inopportuno. Perché lui stava sistemando i suoi posterini, le sue cose dei giornali, ritagli, delle sue ultime vittime, che ha ammazzato forse dieci donne, che ha fatto innamorare di lui. E lui le incontra e succede il patatrack, finché lo arrestano. Perché lei c'ha avuto culo che scappa e incontra questi due ragazzi. Ragazzi, questo qua non è recensivo, è più un riassunto per salvarvi da questa merda. Niente, lo arrestano, gli danno, penso, 7-8 ergastoli, giustamente. Ora, c'è la protezione, prendete il testimone, dice perché? Perché questo coglione è fuggito. E neanche ce lo fa vedere perché il film, il budget, manco ce l'ha per fargli vedere il carcere, non fa vedere il cazzo. È fuggito. Arriva la polizia e dice, oh, ragazzi, ci sta in giro l'assassino. Per vostra sicurezza è meglio che vi trasferite, cambiate nome e tutto. La ragazza dice, ma ora vedo il cazzo, come faccio? Ma stavo facendo la festa, non è interesse a quella. Pela gli interessa che more. Ah, tu sei una mamma di merda, tu sei una mamma cattiva. Oh, 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 io volevo rimanere qua. Boh. Poi, alla fine, lei è sempre incazzata, questa ragazza in sovrappeso. E finché, ragazzi, qua ragazzi, mi incazzo. Perché questa vuole sempre mangiare e mangiare di sto cazzo. E quindi, arrivano in quest'altra città. Loro neanche hanno l'intelligenza di rispettare le regole. Perché io non portatevi i telefoni o cose. Questo vi porta il telefono che aveva del 2002. E gli dà l'altro telefono a un suo parente. Per sentire se il padre schiatta o meno. Che così ci lascia altri soldi. E così può viaggiare e altri cazzi potrà incontrare. Quindi, si tengono in contatto. Il nostro caro tizio assassino va da un chirurgro plastico e si fa cambiare la faccia. Ok, ho detto va bene. Però, tutto il resto rimane uguale. Le braccia, il cazzo, il fisico, le zizze, le sue zizze mosce rimangono. Il suo fisico, porca tuttana, l'ha modificato anche la statura. Ma chi minchia è il suo chirurgo? Eppure ha fatto pure il nido di uccellino che rimangono i capelli dietro. Ma questo ha un sacco di capelli, ha fatto pure il biondo, gli occhi azzurri. Ma va a cagare, dai! L'ha cambiato tutto. E quindi, questo qua, che fa per attirarli? Perché lui subito trova la soluzione come ad arrivare a loro. Praticamente lo scopre facilmente grazie a questa cosa del telefono. Arriviamo a sto cazzo di cose, come si avvicina. Lui lascia il suo cane. Cos'è, l'aschi? La specie. Che è i cani più belli, secondo me. Mi piacciono tantissimo. Non so che dire tanto. In me il cane più bello è il barboncino. Ficcato nel culo, il barboncino. A me piace l'aschi, l'occhio azzurri. È bello, sembra mezzo lupo. Bello figo. Peccato che poi va di moda e mi ha rotto il cazzo anche quello. Quindi non voglio niente. A questo punto mi prendo questo, un leopardo. Che non ce l'ha nessuno. E quindi ci lascia questo cane, giustamente neanche per caso passa la sua figlia e vede il cane. Lui non è che pensa, ma poi se si ferma qualcuno l'altro a vedere il cane. No, giustamente vanno a chiamare loro. Arriva lui, con statura diversa, vi ho detto è tutto diverso, è un altro attore completamente. Lo so che diceva, come facevano con le plastiche, ma a me non lo so, gioca su questo. E lui no, inizia ad essere uomo zerbino. La ragazzina rompe, sembra i coglioni di sciami, mancano i peni che avevo nella vecchia città. Qua peni non ne ho. La mamma dice, tanto ora lavoro in questa scuola nuova. I peni nuovi te li farai. Ehi, ma i pasticcini erano buoni lì. Tranquillo, troveremo una pasticceria anche qua, per farti alzare il colesterolo. E forse, prima dei 30, schiatterai. E allora, e quindi, vediamo che il prente inizia a fare amicizia. C'è un altro che sembrerebbe che è lui, ma non è lui, perché poi è un giornalista che è fissato con il cacciatore, che si è, figuratevi, preso un mese che è alla stanza di questo cacciatore, non è che invisa la polizia. No, si fa i cazzi suoi. Ma porca puttana, ma dilla alla polizia che sta al suo assassino qua in città. Lo dice un cazzo. Questo assassino inizia a fare lo zerbino, se la porta anche a letto, lei non è che vede e dice, ma aspetta, ma sto pene, ma io non l'ho già visto mesi fa. No, non capisci che il cazzo è uguale. Perché non so se il chirurgolo gli ha modificato anche il cazzo. E lei, niente, lo spombina è tutto che non si vede. La mia immaginazione parte su questo, perché loro hanno scopato, ma penso che lo vedi, che le zizze, i capezzoli, i peli, è tutto uguale. Le mani, le braccia, i piedi fetenti sono uguali. Solo la faccia è modificata. Perché non le raccorgi, porca puttana? Boh. Fotografia tutto sbagliato. Musiche di merda. Ci sono riciclate scene che già ci sono state. La madre è una rincoglionita che quando vede un pene non capisce più un cazzo. Eh, ma io sono stata, non mi fido più di chiunque. Poi passa una settimana e già si fida di questo. Gli dà codice per andare dentro casa sua, codice per la sua faggina, codice del suo cellulare, conto bangario e conto anale. Eh, ma io non lo so. Ma veramente facciamo, ma come cazzo si fa a fare un film del genere? Come si può fare? Sta gente come può trovare i soldi? E la gente che gli dà pure per fare sta merda. Perché è una merda. L'idea potrebbe essere anche carina, divertente, perché il film fa ridere, ragazzi. Cioè, è assicurato che fate una serata col botto. Col botto proprio che vi buttano voi dal balcone, se vi fate vedere sto film ai vostri parenti o amici. Perché è una merda. Cioè, dovete essere proprio come me, che vi piace proprio il trash, il soffrire, il ridere, su questa merda. Andiamo direttamente al finale, ragazzi, perché alla fine, non mi ne frega un cazzo, perché questo si inizia a diventare pure MasterChef. Cucina da Dio a case ovunque. Questo c'ha, ogni città c'ha una casa diversa dove poter far innamorare le donne. Il coglione usa pure lo stesso porta-anello, con lo stesso anello, e quella neanche se ne accorge. Se ne accorge dopo due giorni, due giorni ne accorge che ha lo stesso anello, una coglione, e lui pure è stronzo. Cioè, hai il sacco di soldi, hai comprato i Mercedes, ti compri gli Audi, ti compri questo, ti sei comprato un Ranch, ti sei comprato una villa, ti sei comprato una casa, ti sei comprato... Comprare l'anello di nuovo, che ce la fa? Un mille euro, si spende, hai speso una marea di soldi per ammazzare lei, che è benissimo, potevi lasciarla stare, te la andava a ammazzare qualcuno, l'altro, fece innamorare. E lui sempre, dimmi che mi hai, dimmi che mi hai, e io non lo so. Una scena orribile quando lui gli dà l'anello. E io, ma io ti amo. E dice, ma, eh ma è troppo presto, ma io lo sembrava, e lei dice, ma non posso, io è passato poco tempo, eh ma io ti amo. E lei dice, allora sì, accettiamo, e la la, mettiamo l'anellino. Ma va a cari, allora pure io, vi immaginate una coppia che quella dice, no, non voglio fidanzare. E ma io ti amo, e io ti amo. Ma dimmi qualcosa altro, mettici un altro, un altro aggettivo, un altro complimento, un qualcosa in mezzo, non so, eh ma ammazzo, eh non troverò nessuno come te, la tua vagina sa, eh di riguidizia, ma che cazzo ne so, ma che abbiamo? La scena di merda, ragazzi, io non ho visto all'Ups, la scena che, lui, che abbiamo? Non lo so, ragazzi, se volete farvi del male, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, andatevi a vedere questo film, che diventerete, astemi, perderete anche la voglia di fumare, perdete la voglia anche di uscire di casa, di farvi anche una famiglia, io figuratevi, io ieri volevo scappare di casa, volevo andare via, proprio, mi hanno detto, io abbandono tutto, veramente, ma andate a fanculo, e ti mi dice che è bello, che ha i mdb 5.1, non si merita manco uno, questa cagata, ho quasi sposato, io ho quasi sfiorato, di cagare nel letto, con questo film, fatemi sapere la vostra, se lo vedrete, se l'avete visto, e cosa ne pensate, perdonatemi, per la marea di parolacce, e, incazzature, spero che nessuno sia offeso, ragazzi, perché io scherzo, cioè io, quando mi ci prendo, mi prendo su questi film, malamente, ok, quindi non rompete i coglioni, nei commenti, e un saluto a tutti i miei iscritti, e se vi va, iscrivetevi pure voi, per far parte della famiglia del terrore, attivate la lampanellina, e condividete il video, con chi volete, e con chi, potrebbe apprezzare, questi tipi di contenuti, io vi ringrazio come sempre, e alla prossima recensione, o top, che sia, boh, chi lo sa,